Bentornato nel mio canale news. Ultime notizie aggiornate oggi Pamela Malvina Noutte-Ciosawa, infermiera a Bologna e campionessa di box del 2021 ha ricevuto la cittadinanza italiana dopo 22 anni in Italia Ora posso dire finalmente ad alta voce che questa è casa mia Dopo 22 anni in Italia, Pamela Malvina Noutte-Ciosawa ha finalmente ottenuto la cittadinanza italiana L'infermiera e campionessa di box, che vive a Bologna dove si è stabilita da qualche anno, e dove si divide tra il lavoro all'ospedale maggiore e la passione per lo sport, ha firmato il giuramento da cittadina italiana che ha consegnato al sindaco della città Ora mi sento più a casa, è come se la mia identità fosse completa, ora posso dire ad alta voce questa è casa mia, sono italiana anch'io Le parole che la 30enne ha affidato a fanpage It.Arrivata in Italia dal Camerun nel 2000 insieme alla sua famiglia, quando aveva solo 8 anni, Pamela ha vissuto prima in Umbria per una decina d'anni e poi si è trasferita nel capoluogo emiliano per frequentare l'università È nel 2015 che si è approcciata alla box durante un tirocinio svolto all'interno di una struttura dedicata a persone adulte in condizioni di marginalità sociale Una passione che l'ha portata a diventare, nel 2021, campionessa italiana della categoria 64 kg, e ora con la cittadinanza la carriera potrebbe proseguire Ora posso pensare anche di ambire al titolo nazionale, che è una cosa che prima non potevo fare, e dopo quello potrei passare al titolo europeo Mi si aprono tante porte che prima erano chiuse e sembravano impossibili da aprire, spiega a fanpage It, mi sento molto più libera di muovermi e di fare tante altre cose, ora ad esempio posso andare a trovare un'amica che vive in Inghilterra da anni e a cui finora non ho potuto far visita Posa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video